Nella parasha di Zav è scritto che tutta la comunità di Israel doveva radunarsi alla porta della tenda del convegno. Il Midrash fa notare che c'è un problema di quantità. Com'è possibile che così tante persone potessero stare a l'entrata della porta? Per lo sfatto emette, la questione sollevata viene racchiusa nell'idea del Muat Shekziketamerubah, il poco che contiene il tanto. In tutti i paesi della realtà, con il piano del tempo, quello dello spazio e quello delle persone, è possibile trovare un punto che ha la capacità di concentrare in sé il tanto. Per ciò che riguarda il piano delle persone, quindi Nethesh, Arona Cohen ha la capacità di comprendere e accentrare dentro di sé tutto Am Israel. Tra Ebena Israel c'è uno che è in grado di unificare tutti, il Cohen appunto. Per quanto riguarda lo spazio invece, quindi Makom, il Belta Mikdash racchiude in sé tutti gli altri. Ed è il centro fisico verso il quale ci direzioniamo. Nel tempo invece, quindi Sman, Shabbat e i giorni festivi concentrano in sé tutti gli altri giorni dell'anno. Affermare che una persona, uno spazio o un tempo è in grado di unificare e racchiudere in sé tutti gli altri, non vuol dire sminuirli, piuttosto coglierne il centro, trovarne la parte essenziale nel poco. Il poco che contiene il tanto, quindi, significa che il tanto viene concentrato in qualcosa di piccolo, per coglierne appunto la sua essenza. In questo poco la molteplicità delle persone, dei tempi e degli spazi è in equilibrio con l'unicità di una persona, di uno spazio o di un tempo che li contiene appunto. L'essenza dunque è unicità e molteplicità allo stesso tempo, contenere alla lettera appunto, tenere tutto insieme. Di solito pensiamo che per ottenere di più dobbiamo aggiungere sempre di più, ma non è così. Il poco che contiene il tanto propone un punto di vista alternativo, quindi bisogna rinunciare all'idea di poter cogliere il tutto. Dobbiamo riconoscere appunto di non poter controllare ogni cosa e accettare che alcune cose sfuggono. Noi pensiamo che appunto accumulare e andare ad addizione sia un valore aggiuntivo, positivo, e che andare a sottrazione sia una mancanza, ma non è assolutamente così. Per esempio, quando usiamo tante parole, paradossalmente veniamo ascoltati di meno. Una comunicazione con tante parole appunto è una comunicazione in cui ci sono parole superflue, che rischiano di rendere il nostro messaggio superficiale e inefficace. È come se tante parole ci facessero allontanare dall'essenza delle cose. Al contrario, poche parole potenziano il pensiero e rendono possibile una comunicazione che va appunto in profondità. Questo è il motivo per il quale i Hakamim nella Tefillah hanno stabilito una formula precisa da pronunciare. Quindi ogni singola parola della Tefillah contiene un'infinità di senso. Quindi la Tefillah si fa carico di un confronto con Kadosh Baruku, avendo comunque la consapevolezza che se si pronunciassero più parole per comprendere, la sua essenza continuerebbe a sfuggirci. Solo così appunto la Tefillah riesce nel poco a contenere il tanto, con la consapevolezza che il tutto resta sfuggente e strabordante. Infatti noi siamo l'esempio del poco che contiene il tanto, perché tutto il nostro passato è contenuto e racchiuso in un solo attimo del qui ed ora.